Dopo nove mesi arriva la svolta nell'indagine sulla morte disneyana a Bunaclea, la badante moldava 43enne trovata lo scorso 5 marzo senza vita in una vasca da bagno di una casa ad altavilla silentina. Da qualche mese vi aveva trovato alloggio e impiego prendendosi cura di un'anziana. I carabinieri del comando provinciale di Salerno e della compagnia di Eboli hanno arrestato in applicazione all'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del tribunale di Salerno. Il figlio della signora, il 51enne Gerardo Cappetta, per gli inquirenti sarebbe lui il killer della 43enne, si trova ora in carcere a Forni. In un primo momento era stato ipotizzato che la straniera fosse morta per un malore. Le indagini con sopralluoghi e testimonianze chiave e i risultati dell'autopsia sulla giovane donna avrebbero invece fatto emergere l'ipotesi concreta di un omicidio di impeto dal movente passionale. Cappetta, che viveva anche lui in casa con l'anziana madre, si sarebbe invaguito della 43enne, un sentimento non corrisposto. La donna pare frequentasse proprio un suo conoscente. Un appuntamento a cena con quest'ultimo potrebbe essere stata la causa scatenante del litigio, che per gli inquirenti sarebbe degenerato e avrebbe portato all'omicidio della donna, avvenuto nel bagno del primo piano della villetta, dove la straniera raggiunta mentre si stava lavando è stata affogata nella vasca. L'omicida avrebbe poi alterato la scena del crimine, facendolo sembrare un tragico incidente.